Salve a tutti, sono Luigi Corral, Presidente del Cinecchia di Milano del Cittadino. Oggi vi trovo in Corso del Tuoco all'Angolo Musiaco Grazzaro, assieme all'amico Pianchetto, perché con la nostra grande sospizione abbiamo appreso dello strato al centro, che vediamo alle nostre spalle, che è stato oggetto di nostro preciso e appunto all'esposto. Da quanto ci viene riferito, come avevamo denunciato, sono state rinvenute le bombole e tutte le altre anomalie, gli altri mancati rispetti della legge che avevamo segnalato. Questo è un atto importante, perché dimostra che quando i cittadini si mobilitano riescono ad ottenere giustizia. Il cittadino deve trovare, attraverso le varie forme che la legge consente, la possibilità sempre di rindicare i propri diritti. I diritti li dobbiamo pretendere. Noi abbiamo avvisato all'inizio il proprietario, poi abbiamo avvisato le forze dell'ordine, abbiamo avvisato un po' tutti, il condominio lo sapeva, l'amministratrice. Ci sono stati dei controlli, ci sono state delle verifiche e finalmente oggi, dopo una lunga, lunga, lunga segnalazione, con soddisfazione, mia personale e anche del condominio, siamo arrivati alla chiusura. Ringrazio pubblicamente il signor Corò che si è prestato a sostenerci e aiutarci e invito tutti coloro che hanno dei problemi e delle necessità ad appoggiarsi al CMP che risponde sempre. Grazie. Grazie.